Quest'anno la conferenza GAR prosegue, come è stato negli anni scorsi, l'importanza dell'interconnessione delle conoscenze e soprattutto delle persone nelle varie università e entri di ricerca che si sta estendendo sempre di più. Sapere interconnessi vuol dire che la GAR si concentra sul fatto di come le competenze, le conoscenze e le informazioni trasmesse attraverso la rete siano fondamentali per tutto quello che la ricerca fa oggi in Italia. È stato scelto quindi di avere le informazioni dalla maggior parte delle persone possibile su quello che sta succedendo oggi, sul modo di trasferire i dati, di elaborare i dati e un particolare attenzione è stata data anche alle attività finanziate dal PNRR. Queste attività sono essenziali soprattutto per l'infrastruttura di ricerca per dare questa spinta a poter partecipare alla non evoluzione costante dei saperi che sta diventando sempre più comune e diffusa su tutti perché quello che sta succedendo è che oggi non è più un sapere statico ma è un sapere che costantemente viene arricchito attraverso sia calcolo sia competenze sia attraverso la interazione di saperi diversi. All'interno della conferenza GAR quindi avremo presentazioni sia da un punto di vista di come i ministeri stessi interpretano e sono riusciti a utilizzare le finanziamenti del PNRR sia come le singole attività dalle basi dati all'innovazione tecnologica e soprattutto a quello che riguarda anche la parte di autenticazione, autorizzazione e sicurezza si sono integrati sempre di più per dare lo sviluppo al futuro nostro.